Aveva la pericolosa passione di divertirsi di sera e di notte a sparare colpi di pistola di carabina dalla finestra di casa verso il rione e i campi dietro la sua abitazione, in via Eulero a Brusegana. Protagonista un moldavo di 30 anni operaio. Il vicinato era incredulo, fino a quando, qualche giorno fa, un colpo di pistola ha forato il vetro di una finestra di un palazzo vicino al suo. È stato presentato un esposto alla questura. In poche ore gli agenti della mobile hanno individuato la finestra dalla quale partivano i proiettili e rintracciato l'uomo al quale hanno sequestrato due pistole a salve e una carabina ad aria compressa con le specifiche munizioni. A tutte le armi il trentenne aveva tolto il tappo rosso, obbligatorio per legge, ed è stato denunciato.